Ciao ragazzi, ancora una volta vi dedico tutto questo a voi ragazzi del raccordo incastrati in quei tubi di ferro, ciao, una meraviglia. Qui si soffre, eh? Altre sofferenze alla faccia vostra. Ci facciamo anche un bel tuffetto. Purtroppo ci sono solo 30 gradi, 35, via. La lumone? Ma lasciata a piedi? Eh, probabilmente. Sono stato lasciato a piedi da lumone. Qua ragazza qua sul gusano barrenador. Assolutamente, più che mai, Bordovasca. C'è il telefono, caro. Come? C'è il telefono. Si alzi e si qualifichi. Si alzi e si qualifichi. Io sono Tommy, vengo da Roma, ho 26 anni. Sto cercando la mia anima gemella. Che mestiere fai? Io ho un ristorante sul mare, sono amici. Allora, no, chi lo cerca? Lo passo su. Grazie. Grazie.